Hai aperto? Sì, sì. Molto simpatico, pieno di colori. Non hai aperto? Non hai aperto. Non hai aperto? Sì, ecco, bisogna partire prima. Dicevo appunto, un simpatico fotromotraggio pieno di colori, ambientato in un paesaggio del Kurdistan. Andiamo a resistere con noi, quindi lasciamo che ci spieghi un po'. Poi ovviamente se avete delle domande. Cosa è con un massacente? Buongiorno. Buonasera. E' verba. E' verba. E' un brazo di zoldo il cosciam che ruolo a Roma, E' felice di essere qui con voi a Roma e di poter proiettare un film del sud del Kurdistan insieme a voi, ma anche tutti gli altri del resto del Kurdistan. E' un brazo di zoldo il cosciam che ruolo a Roma e di poter proiettare un po' 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 di poter proiettare un po'. E' stato realizzato alla fine del 2010 al confine del sud del Kurdistan e dell'Ovest, perché perché c'è il nord dell'Irak e Siria in un paese, 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 in un paese. Il costo del realizzio è stato di 5 milio euro. No, la verba. La voce è un po' più alta che... Prova, ecco. De me è corticato. Ora ne apprezzatevi. Ho un film, la Festival Cicchia Italia, Galati Bashti, da Rinalio, per tua. Impilia Video Film Festival, Sali Brughezar Biazda, Galati Bers, direttori per tua. Ha avuto un premio del Festival di Impilia, all'inizio del 2010. Il miglior direttore. Il miglior direttore. Il liberatore di Impilia. No, no, no. Ho due Kids. Sono della FI Tamina, per ciò , al pubblico dei spiegati ha arrivato un filmre, in täältima. Bisnam Ma rush, mi cons cuerpo, per ciò si fa venire l'unica in un paese. È l'unica, voleva poi c'è un bacio c'è una strada ma c'è niente anni assai il bc l'ho prima della città lo stesso in germania partecipato un festival è stata candidato lo stesso per un premio però non era previsto di premio dire solo una sorta di organizzazione è lo stesso anche il festival di babeli in iraq ha avuto come miglior produzione regista come le calati che è buona parla salvatore a scena calati il reizzo ghani è l'istitfale di albaquer il bacco di Kudostan calati il reizzo ghani è la posarati roshanbiri il motore di Kudostan calati il reizzo ghani è la calati maggi è buona calati il reizzo ghani è la sindicata di Kudostan questo è stato un film di una bella soddisfazione per lui perchè è riuscito anche all'interno dell'irac a partecipare ai vari festival e avere dei premi quindi adesso lascia fare un'acqua è il suo primo ecco voi chiedere posso chiedere se è il suo primo colpo è il suo primo la sua prima realizzazione è il film è il film no è il film ah è il decimo la domanda è se era il primo il suo lavoro il quattro partaggione è il decimo del suo lavoro il decimo prego io lo volevo solo ringraziare per questi 10 minuti di sorriso perchè in questi giorni siamo stati molto provati è vero che anche su questo c'era molto da rigere in vista che era una storia di solitudine però è abbastanza direttente la trovata nei cartoni animati grazie 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti i nostri amici e a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.